Confcommercio, unitamente ad esperti del mondo dell'università e dell'economia, oltre ad esponenti politici e delle istituzioni, hanno affrontato il tema del nuovo porto di Pescara. Tra le opere da riqualificare, le banchine, le case dei pescatori e il nuovo asse attrezzato che andrà a collegarsi direttamente con il porto. Tutto questo, se va pensato soltanto in forma unilaterale, io credo che debba essere pensato tra più attori. Per realizzare questo c'è bisogno di capacità, di conoscenza sui waterfront che hanno fatto in altre città. Vedi il waterfront di Palermo, vedi il waterfront di Genova, vedi il waterfront di Pantelleria. Quindi ci sono esperienze in passato che hanno dato lustro. Certamente una rigenerazione urbana fatta con le dovute opportunità riconquista anche il territorio sotto l'aspetto delle imprese. Ecco perché Confcommercio oggi è presente. Il waterfront è la nuova era delle città sul mare e l'occasione per la realizzazione potrebbe venire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una volta costruito il porto noi avremo i collegamenti con la Croazia. Chiaramente a ridosso del porto ci saranno infrastrutture alberghiere, ricettive, commerciale. Basta che uno arrivi in vacanza e scende davanti a un porto e si rende conto che si trova appena si sbarca. Il nostro porto purtroppo da dieci anni vuoi per l'indragaggio, vuoi perché c'è stata poca attenzione, è fermo e sta diventando un ghetto. Invece dovrebbe essere un fiore all'occhiello per la città di Pescara. La notizia che vede già pronto il piano per ripristinare i collegamenti con la Croazia a partire dalla prossima estate lascia ben presagire, ma al contempo non si possono chiudere gli occhi a quelle che sono le problematiche dovute all'insabbiamento. Questo è un problema oramai annoso per il nostro fiume, per la nostra città. Un porto statale che da troppo tempo è chiuso perché è stato trascurato dal livello nazionale. Ci siamo rimboccati le maniche per dare un aiuto alla marineria, quindi abbiamo fatto la gara, siamo lì per fare gli interventi, ma sul porto la situazione si chiuderà nel momento in cui finalmente si collegherà il molo nord alla diga foranea, si collegherà il molo sud alla diga foranea in modo da permettere un'uscita diretta del fiume verso il mare.